questa fettuccia dall'aspetto rotondo e corposo ma leggera di peso ci aiuta a interpretare al meglio il tricostrutturato nella sua declinazione estiva a supporto della nuova stagione il filato si arricchisce di una serie di colori stampati con effetto micromacchia realizzato con un cotone bio certificato ocs questo filo in titolo 2002 da utilizzare sulla finezza 3 senza temerne il peso ideale per tutte quelle lavorazioni tipiche del tricot come la mezza costa inglese le trecce gli scaricati alternati a una cartella colori uniti interamente a stock service mentre per i colori spaced sono segnalati quelli pronti per campionatura si possono tingere colore campione con un minimo di 20 kg mentre per lo spaced si dovrà contattare l'ufficio tecnico calciano calciano calciano